Dai, continuiamo questa giornata con una preghiera che dice che siamo tutti tra lì perché l'unico è il Padre nostro che è nei Cieli, ma che vuole esserci anche vicino qua sulla terra. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito, Santo, Amore. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come il cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci dobbiamo in tentazione, ma rivederci dal male. Amore. Il Signore ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amore. Buonanotte.